Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di questo libro che si intitola Fare, conoscere, creare l'avventura. In effetti più che un libro è quasi un manuale dei giovani marmotte, infatti al suo interno troverete veramente tantissime nozioni, tantissime curiosità, a partire dal riconoscere le tracce nella natura, come piantare una tenda, come orientarsi nel bosco, come sopravvivere a tutti gli imprevisti che la natura può offrirci. È un libro ideale per ragazzini dagli 8 ai 12-13 anni, è un libro carino perché è bello imparare le cose divertendosi, infatti qua ci sono anche i giochi da fare all'aria aperta, la corsa dei sacchi, le ombre cinesi, gli alfabeti come l'alfabeto Morse, veramente di tutto. È un libro molto carino che non può mancare nelle biblioteche perché infatti secondo me è il libro ideale per educare i giovani alla natura e la sua salvaguardia.